ragazze buongiorno e ben ritrovate qui facciamo un piccolo haul ieri sono stata da cadiz tengo a precisare che ci sono delle promozioni se vi interessa i prodotti cadiz ma anche su altri prodotti che si trovano nel negozio nel momento quando fate qualche spesa ricevete alla casa anche dei buoni sconto che le potete utilizzare nel mezzo di luglio roba buona perché è interessante vediamo cosa ho preso io sono entrata giusto per fare un giretto stavo cercando proprio una maschera per i capelli e i prodotti per per le unghie per i semi permanente vi faccio vedere ho acquistato come trattamento per i capelli secchi trattati i miei sono un pochino secchi trattati in senso su quelli che fai la tinta o te le schiarisci ho comprato della mill mill professional crema rigenerante al burro di karité è un impacco ammorbidente giusto per capelli secchi e trattati ragazze questo non so se era in promozione ma comunque costa due euro qualcosa io ho già utilizzato prodotti di mill mill anche di altre tipologie anche maschere e mi sono trovata bene e vi devo dire sono 500 ml di prodotto quindi qui ne hai vuole a di usarlo vi dura un paio di mesi buoni scusatemi io ho fatto traballare e poi dal loro brand cadis vedete che c'è in offerta e ho preso solo una perché l'ho appena fatta da poco questa l'ho presa come come scorta la cura lavastoviglie igienizzante che elimina grasso e calcare questo qua io ho la lavastoviglie ogni due mesi anche tre faccio la pulizia della lavastoviglie ogni lavastoviglie e lavatrice hanno un programma apposta per la pulizia fatelo perché è importante prolungate la vita del vostro elettro domestico più che altro io aggiungo anche magari un mezzo limone quella buccia così che profuma la lavastoviglie a proposito lo faccio ogni due mesi se uso la lavastoviglie tutti i santi giorni ma d'estate la uso meno quindi ogni tre mesi lo faccio poi visto che erano in offerta le lamette sia uomo e dona queste qua della wilkinson ho comprato anche un pacchettino di lamette quando non ci voglia di farmi l'epilazione con l'apparecchio con il raso elettrico questo è la salvezza non mi piacciono le strisce depilatori e non mi piace la ceretta o una pelle sensibile che si infiamma e quindi non ci voglia di fare con quelle quei trattamenti allora vado di questa o di diciamo rasoio elettrico poi per i capelli volevo volevo riprovarlo perché l'ho già provato una volta non che non mi è piaciuto mi è piaciuto però a volte a un costo stavolta costava meno il termoprotettivo di adorn perfone piastra io adesso uso uno della lo della panten però adorna mi piace più che altro come profumazione tutti i prodotti di adorn profumano di buono di qualcosa dolciastro così sembrano delle caramele e mi piace il profumo poi visto che io ho messo nei cassetti lavanda cose però in passato mettevo sempre la camfora non lo trovavo da nessuna parte stranamente l'ho trovata qui da loro da cadis sono pelle profumate un pochino caruccia però questo prodotto già visto che mi diceva la commessa che non si produce quasi più allora dico mi reputo fortunata 3 euro quasi 4 euro 50 grammi non so quante perline ci sono ma non ho troppi armadi quindi se ne sparpaglio qua una qua e la ben venga oltre che ho la lavanda messa per cosa serve per proteggere i vostri indumenti da insetti che li attaccano poi in offerta c'era il salva slip questi qua giornalieri non li ho mai provate ho preso un pacchetto non si sa mai ci servirà e così che sia in casa poi avendo questo problema dei taloni che mi si screpola pur non usando in città ciabate sandali in città non uso perché è troppo sporco in genova e non mi va c'ho paura di tutti i batteri virus che ci sono ragazzi le strade di genova si potrebbe passare come un lamento ma anche come una specie di non lo so di messaggio verso il sindaco di chi si occupa delle pulizie di questa città pulite un po le strade o multate quelli che hanno cani perché non se ne può più non ho nulla contro gli animali però ragazzi non si può camminare sulla strada in ciabate i sandali perché si deve fare slalom tra le cacche e piscio di cani c'è una puzza infernale siamo di estate non piove tutti i santi giorni che le strade si puliscono più che altro i spazzini lasciano desiderare oltre questa cosa qui c'è anche lo sporco non capisco perché noi cittadini paghiamo un sacco di soldi per la spazzatura e le strade fanno pena oltre le erbacce anche erbacce ci sono dappertutto che si anidano insetti topi e altre non vi devo cioè veramente e io la genova non me la ricordavo così non lo so che fa sto caro sindaco dorme sui allori perché un peccato sì anche i cittadini dovrebbero essere più attenti ma chi ha l'animale che lo porta a spasso e lo fa defecare urinare sui muri ovunque senza che buttasse una bottiglia d'acqua o che raccogliesse gli escrementi del suo animale fa proprio vergogna vi dovete vergognare non dovete battervi col pugno in petto che va abbiamo il cane l'animale non lo toccate no siete dei sozzoni e qui concludo ecco per quello non mi metto le scarpe baro i taloni mi si seccano lo stesso mi si screppola perché è un problema col diabete quindi raccomando questa crema della prep rigenera taloni per chi ha questo problema anche il mio io non l'ho mai usata però ho letto e mi sono anche un pochino consigliata con la ragazza che lavora lì e mi ha detto che la sua mamma la usa perché è diabetica e quindi dice che si trova bene e io le avevo chiesto un consiglio di una crema un po più potente lei mi ha raccomandato questa e stranamente è anche in offerta eccola qui e questa qui sono 75 ml di prodotto quindi ne abbiamo un pochino e vi terrò aggiornate semmai per farvi sapere come mi ci sono trovata in teoria ero andata per questi prodotti qua vabbè nel colore l'ho preso così perché ogni volta che vado devo piliarmi anche qualche colore io quando ho ricominciato a rifarmi il semi permanente sono ripartita col kit di astra essendo abituata con i prodotti di astra ho comprato solo astra e laila la maggior parte dei prodotti per le unghie o qualche colore comprato sui siti dove vendono prodotti per l'estetista però in generale utilizzo colori di astra o di laila laila è un brand molto buono costa un po di più confronto all'astra mi sono presa il base coat che mi sta per finire come scorta mi sono preso il deidratante e la il primer sono un po più piccoli però per qualche mese vi basta e ho preso anche questo colore che indosso e numero 05 candy e questo è tutto ragazze questo è il mio shopping da cadi scrivetemi nei commenti se vuoi andate da questo negozio e noi ci vediamo sempre qui